Avete mai sentito parlare di... Se vi dicessero che esiste un modo per esplorare gli angoli più reconditi della vostra mente, per vivere dei sogni incredibili dove la realtà e la fantasia non hanno una netta separazione, accettereste di provarlo? Nel 1998 un team di sviluppo di nome Esme Case Entertainment diede vita a un titolo piuttosto peculiare, uscito esclusivamente su PlayStation. Il suo titolo era LSD Dream Emulator, un nome che con i suoi rimandi psichedelico-onirici è riuscito ad attrarre l'attenzione e la curiosità di numerosissimi videogiocatori. Ma andiamo con ordine. LSD non è altro che un simulatore di sogni, nel quale tramite una visuale in prima persona potremo esplorare ambienti tridimensionali di indubbio fascino. Le varie gitarelle nel mondo della mente si susseguiranno su di una base giornaliera. Ogni giorno il nostro avatar, privo di nome o identità alcuna, si risveglierà nella sua abitazione, dalla quale potrà addentrarsi nelle ambientazioni più strane e disparate. È difficile definire quale sia l'obiettivo del giocatore perché effettivamente in LSD non c'è niente da fare se non esplorare gli ambienti. Ogni volta che andrete a collidere con qualsiasi altro oggetto, sia esso un muro, un lampione o un animale, verrete teletrasportati verso altre aree, che sembrano susseguirsi secondo un ordine totalmente casuale. Questa particolare tecnica di esplorazione viene definita linking. A volte però, a seconda del caso, il sogno potrebbe direttamente terminare e alla fine di ogni giorno riceverete un piccolo grafico. Sì, anche se è difficile da capire si tratta di un grafico. A seconda di come vi sarete comportati all'interno del vostro sogno, un quadratino colorato andrà a posizionarsi in una differente sezione di questa immagine, cercando di delineare il vostro atteggiamento all'interno dello strano mondo che avete appena finito di esplorare. Ad esempio, se il vostro quadratino si trova nella parte alta del grafico, siete stati una persona attiva e curiosa. Se si trova in basso, siete stati una persona impaurita e depressa. Una cosa del genere. Questo andrà a modificare attivamente l'aspetto degli ambienti che andremo ad esplorare giorno dopo giorno. L'unico problema, però, è che è veramente difficile cercare di capire in base a cosa il gioco decida di giudicare il giocatore. Sono depresso perché ho scelto il monumento sbagliato in questo giardino? O perché mi sono suicidato? O sono felice perché sono andato a cozzare contro un albero? Che ne so. Graficamente il gioco è molto scarno. Nel 1998 la PlayStation gestiva giochi decisamente più complessi. Le texture sono in bassissima risoluzione, i modelli poligonali sono grezzi. La profondità di campo è praticamente nulla e questo porterà ad avere fastidiosissimi casi di pop-in degli ambienti. Veramente brutto. Eppure, pur essendo qualitativamente così poveri e a volte anche fastidiosi da vedere, gli ambienti sono terribilmente affascinanti e la voglia di esplorarli alla ricerca di una nuova stranezza sarà davvero tanta. Il sonoro è pazzo almeno quanto la grafica. I passi del nostro alter ego, per esempio, saranno continuamente scanditi da dei rumori semplicemente fastidiosissimi. Correre sull'erba significherà praticamente ascoltare delle continue mitragliate. Perché? Non lo so. Le musiche però sono davvero il punto forte. Gli sviluppatori hanno deciso di creare più di 500 piccoli pattern musicali da cui il gioco andrà casualmente a pescare e una volta datato il tempo di tutti i vari segmenti costruirà il brano per il nostro stage. Una cosa pazzesca. Ma forse non mi sono spiegato bene. Facciamola più semplice. Proviamo. Prendiamo un giro d'organo. Agganciamoci un beat tipicamente tecno. Vomitiamoci sopra il campionamento di una papera che starnazza e avremo più o meno il tipico brano musicale che farà da sfondo alle nostre avventure. E non sto scherzando. È davvero così. Ma allora perché non si riesce a smettere di giocare a questo gioco tecnicamente così approssimativo e generalmente così confusionario? Ve lo dico io. Perché è un gioco che ancora oggi riesce a stupire. Inoltre, visto che il gioco cerca di cambiare a seconda di come lo affrontate, potreste provare a cambiare voi in base a come il gioco vi si presenta. Tramutarlo in un'esperienza divertente giocandolo insieme a un amico e commentandone le varie stranezze o farne addirittura un perfetto survival horror giocandolo con le cuffie e il buio più totale nella stanza. E vi assicuro che giocato così fa pure paura. LSD è un gioco pieno di misteri, talmente fitti e nascosti che molti di essi hanno fatto nascere su internet delle vere e proprie leggende. C'è chi parla di un finale. C'è chi parla di una divinità che scende dal cielo. C'è chi parla di un distretto a luci rosse dove le texture riprendono delle immagini in bassissima risoluzione di nudi di donna. C'è chi dice di aver giocato più di 300 giorni e di aver visto stage che non credeva nemmeno potessero esistere all'interno del disco di gioco. Ma fondamentalmente mi viene da pensare che molte di queste persone abbiano potuto affrontare il gioco utilizzandone il titolo come un consiglio su come affrontare l'esperienza. E sì, mi riferisco all'LSD. Ma tutto sommato, per la prima volta da quando faccio una review, non so davvero cosa dire. Non sono neanche sicuro che questa sia una review. LSD è un gioco di ormai 10 anni fa, ma ancora oggi riesce a suscitare interesse e curiosità. Nonostante una realizzazione tecnica, a dir poco approssimativa, il gioco riesce a immergere, interessare il giocatore, spingendolo a esplorare, esplorare ed esplorare, alla ricerca del successivo momento in cui dovrà necessariamente esclamare. Ma che ca... Quindi consiglio il gioco veramente a tutti, semplicemente perché è un'esperienza intrigante. Lo amerete? Lo odierete? Non mi interessa. Vado a giocarci. Vado a giocarci. Grazie a tutti.